Cosa, come potranno essere i numeri e la partita del Senato, la maggioranza del Senato, se sarà diciamo meno solida, ovviamente di quella della Camera, un po' è così, ma insomma se sarà una navigazione complicata in Parlamento? Ovviamente i numeri non sono quelli della Camera. Quanto potrebbe essere? Insomma è difficile adesso, però insomma siamo... Sulla carta partiamo da 168. Secondo me 168, 169, potrebbe anche essere qualcosa in più come 1, 2 in meno, però insomma siamo intorno a quei numeri. Certamente al Senato, ma come sempre da molti anni a questa parte, insomma diciamo di solito Numi larghissimi anche rispetto a... Certo, era la prima parte precedente. Io avevo in maggioranza il governo Brodi, insomma 2006-2008 avevamo come noto, quindi questo in fondo è agevole. 168 è tutta vita. 168 è tutta vita, è agevole. Eh sì, ma ci potrebbero essere quelle, diciamo, defezioni nelle file dei Cinque Stelle come il senatore Paragone che l'ha dichiarato, l'ha dichiarato, qualcun altro potrebbe... Ma insomma è molto difficile, molto difficile, almeno insomma dagli ultimi contatti non mi pare, non tutti avranno grande entusiasmo, ma non ci sono problemi di questo genere, almeno ad oggi. Poi ci saranno, diciamo man mano, però man mano che la legislatura va avanti il problema non è tanto l'aula, perché l'aula onestamente, insomma, loro non hanno mai avuto i 161, se quando bisognava poi votare lo scostamento dal pareggio di bilancio, cose di questo genere, ma insomma anche le fiducia erano 150, 147, quindi insomma non è quello il problema. E' più complicato nelle commissioni, le commissioni ovviamente... Certo, anche perché ovviamente questo dobbiamo dirlo, la Lega rimane, la Lega e le presidenze, certo, le presidenze sono in carica fino a giugno 2020 e la Lega, insomma, legittimamente anche in questo caso non vuole mollare queste presidenze, fa parte del gioco parlamentare.